FASCINO Attraverso mille righe appare questo liberty postmoderno. Il fiore che domina la composizione è strutturato da spirali e formule matematiche, diventando una mimosa dai cento petali. La linea dell'arbusto incornicia la figura, attraverso una sinuosa danza di forme, che nell'insieme costruisce un'armonia. L'opera è quindi poeticamente raffinata ed il risultato incanta l'osservatore per l'equilibrio dell'insieme.